Ci troviamo a Grand Hotel Vesuvio di Sorrento per il concorso nazionale I-Best. Qui abbiamo delle eccellenze dei liquori che utilizzano i Balmen nel preparare i loro cocktail. Guardate che eccellenza. Qui abbiamo dei grandi artisti, io li chiamo artisti nel miscelare i prodotti. Buongiorno, io sono Francesco Cucuru, bar manager di Spirit Routique e in questo caso a rappresentare qui il nostro brand Sardo, macchia mediterranea, tanto è dallo slogan La Sardegna come ispirazione, da un'idea del bartender campano ma adottato Sardo, Emilio Rocchino. Il tutto nasce nel 2014 con lo sviluppo del primo prodotto, il nostro Vermut Rosso a base di Moscato di Sardegna e tutto il lavoro poi si concentra oltre che sulla produzione di un'intera linea di Vermut fino ad arrivare al distillato, al gin, in questo caso un distill, dove le botaniche presenti sono, le protagoniste sono il Ginepro, Foccolone, Sardo e Sabumpia, il nostro agrume tipico, fino ad arrivare a un bitter, in stile prodotto di riferimento e pian piano la gamma si sta allargando sempre di più. Ti ho visto eseguire dei cocktail, una cosa che ti devo rimproverare, che hai parlato l'italiano, l'inglese, il francese, il tedesco e addirittura i polacchi, non hai parlato in Sardo! È una raccomandazione che io do come napoletano, come sorrentino e come italiano, ti raccomando per la prossima volta. La prossima volta sarà la prima lingua che parlano. Innanzitutto devi presentare prima in Sardo la tua lingua, la prima lingua sarà il Sardo. La prima lingua e poi fai capire gli altri in altre lingue. Qua abbiamo un'altra grande barman. Buonasera. Presentati, nome? Io sono Francesca Ass, sono originaria di Carloforte e anche io lavoro per Macchia e Spirits Boutique Cagliari, la seconda azienda di Emilio Recchino, appunto titolare di questi grandissimi prodotti. Che dire, io sono innamorata di questi prodotti, tant'è vero che... Bella innamorata. Molto innamorata. Io in realtà ho conosciuto Macchia grazie al gin, grazie a questo prodotto, che mi ha poi riportato in Sardegna a lavorare insieme ad Emilio. Vi consiglio, visto che possiamo parlare anche di miscelazione... Un suggerimento ancora più bello. Un suggerimento, il grandissimo Negroni, quindi parliamo di un cocktail italiano, ma soprattutto aromatico, fatto con i nostri prodotti sardi. Quindi andiamo a sentire il profumo della Sardegna, l'Editriso, quel famoso profumo di... quando si scende dall'aereo a Cagliari. Quello è l'odore di questi prodotti, quello è il nostro sentimento. Quindi vi invitiamo nei nostri locali per provarlo, ma soprattutto vi invitiamo ad assaggiare anche i prodotti lisci, perché è anche un ottimo aperitivo il barman bianco liscio di Emilio, no? Assolutamente sì. Ringraziamo questi meravigliosi barman italiani, che rappresentano l'eccellenza mondiale del buon italiano. La Sardegna come ispirazione. Per Mediaset Communication chiudiamo dal Grand Hotel Vesuglio di Sorrento e anche se ci vogliono ancora 30 giorni auguri di fine anno e di buon Natale. Grazie mille. La Sardegna è Michele De Angelis per Mediaset Communication.